Ciao a tutti bambini, bentornati in questo nuovo video Oggi faremo l'unboxing di questa macchina gigante Volvo Cabriolette, però la dobbiamo lasciare evitata Ed è confezionata benissimo Ed è bellissima, guardate pure nella confezione quanto è bella Qua c'è scritto Star Collection Dye Cast Metal with Plastic Power Stay Ed è bellissimo come è la confezione, è bellissima Questo è il prodotto in Italia Ed è bellissima, guardate quanto è bello È fatta dalla Burago Italian Design E poi è bellissima, guardate quanto è bella E qui ci sono dei fori Non lo so perché, però è bellissima Guardate quanto è bella Eppure bellissima Ma non perdiamo altro tempo e apriamola Però prima piccola pausa Questo gioco è dato ai bambini dei tre anni in su Ecco bene, abbiamo aperto E togliamo la macchina dalla confezione Bene, guardate quanto è bella dentro Possiamo farci uno scenario Guardate quanto è bella Questa è la nostra macchina come vedete Ed è davvero fatta bene Qui si apre il portello Però questa la apriamo domani Va bene Però guardate il dentro quanto è fatta bene È tutta bianca dentro Guardate anche il di dietro quanto è bella Questa è la Volvo C70 T6 Ed è bellissima anche di dietro È davvero stupenda Anche qui si apre lo sportello Però non si apre Si muovono le ruote Perché cammina Guardate quanto è bella È davvero bellissima Si apre anche il motore Si chiude E qui c'è scritto in trasparente Il modello E qua c'è scritto Volvo C70 Cabriolet Perché lo sapete che significa cabriolet Che è decapotabile Ed è molto bellissima È davvero bellissima Più degli unboxing precedenti Perché questo è l'unboxing più speciale Che io avrei mai fatto Perché questa macchina mi piace tantissimo È anche di un rosso lacca Che a me piace il rosso lacca Mi piace il rosso rubino Il rosso normale Tutti i rossi mi piacciono E questa è davvero una Volvo bellissima Davvero stupenda Come vedete qui C'è la vite Però la lasciamo vitata Perché infatti qui ci sono due foretti Per metterci cacciavite E aprire la macchina Però questa volta non la facciamo Lo faremo domani Però è fatto davvero bene Qui Lo sapete che Qui non c'è uno sportello E per andare di dietro Abbassa i sedili Però qui non te lo fa fare Perché altrimenti si ha un po' di sedili Vabbè pazienza Tutto è bello Lo stesso Hai visto? Ho paura Di farlo rompere Questo giocattolino Che è troppo bello E mi piace Ed è stupendo Guardate Il davanti quando è bellissimo È bellissimo Questa Volvo Infatti mi piace tantissimo Come è fatta È davvero stupenda Ma lasciamo stare adesso E vediamo un po' Come è fatta la confezione La confezione è bellissima Da farci uno scenario Infatti qua c'è scritto Burago Perché la Burago fa Tantissime macchine E io le apro ogni volta E ci faccio un unboxing Vediamo il dentro Mamma mia È troppo stupendo Con questa Volvo Ci posso fare tantissime avventure E voi Se volete vedere un'avventura Lasciate un mi piace Ed iscrivetevi al canale Attivando sopra la campanellina Per non perdervi altri video Ragazzi Lasciate un pollice in su Ed iscrivetevi al canale Ciao E clicquate qua sotto Nei commenti Per iscrivervi al canale Ciao 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 Ciao